buongiorno splendore beh in realtà è mattino ma è difficile a dirsi perché la stanza è scura ehi ehi calmati tesoro va tutto bene sono io non mi riconosci non riconosci la tua cara e dolce fidanzata è solo che ho un altro aspetto adesso per questo è così scuro qui perché non voglio che tu scappi via da me oh certo che stupida aspetta ti rimuovo lo scotch so che la situazione è abbastanza strana ma non volevo che ti mettessi a urlare non appena mi avessi vista così beh eccoci qua oh so che non hai paura di me perché cioè non riesci a vedermi bene lo so e ha anche senso sei sempre stato di supporto per me e ed è anche il motivo per cui ho deciso di mostrarmi in questo modo fidarmi per cosa per la verità non preoccuparti ora mi spiego sai durante questo periodo dell'anno di solito mi allontano o dico di stare male giusto in realtà non sono andata da nessuna parte cioè non mi ammalavo nemmeno io mi nascondivo in verità il mio stile lo richiede è più una una necessità che un interesse personale per carità è una cosa che mi piace fare ma diciamo che richiede tanto tempo la mia pelle diventa la mia pelle diventa un pochino più pallida non ho bisogno del trucco perché diciamo che sarebbe anche strano usare del trucco per quelle esigenze ma in realtà non so come spiegarlo per cui lo dirò e basta ok io non sono umana sono un aracnide sì come il mito di aracne e atena infatti originariamente noi mostri cambiamo con gli anni ora mi credi una pazza vero per questo non volevo mostrarmi non ancora gli umani si spaventano per i ragni quelli piccoli quindi non immaginavo che putiferio avresti fatto in questa versione anche se in realtà la parte superiore è umana è la parte di sotto che può essere un problema ecco va bene ora ti mostro guarda in alto vedi i miei occhi tutti e sei e sono anche abbastanza luminosi vedi vedi perché non volevo mostrarmi sapevo che avreste reagito male voi umani reagite in questo modo ci odiate pensate che siamo dei mostri è per questo che devo nascondermi molti altri mostri hanno la vita più facile a volte hanno dei manufatti magici che li aiuta a trasformare quelle parti che sono mostruose in umani so di una ragazza lamia che è stata scoperta da un umano e se l'è cavata nessuna ripercussione grave e io io invece in un periodo dell'anno devo andarmene e nascondermi altrimenti se mi avessi vista per caso non riesco neanche a immaginare non saresti voluta essere con me tu sei davvero una brava ragazza ed è per questo che l'ho fatto se vuoi posso mostrarti delle parti di me poco alla volta così così non ti spaventerai perché non l'hai ancora capito perché beh questa 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 è la mia stagione dell'accoppiamento ed è per questo che devo nascondermi in questa in questo periodo ho iniziato quando ero un adolescente per ovvi motivi e nonostante le mie frequenti assenze andavo bene a scuola anche perché la scuola sapeva già della mia situazione delicata del resto l'ultima cosa che volevano era una adolescente che si innamorava di un umano e creasse chissà quali piccoli ragnetti cosa che alla fine è successa diciamo a parte l'ultima parte si intende per cui me la sono cavata sono riuscita a trattenere quella che ero e di non perdere il controllo davanti a te vedi parte del problema di essere uno di quei mostri grandi è il nascondersi un amuleto non funzionerà non coprirà mai tutto e quindi dovevo comprarmi dei vestiti adatti per nascondere parte delle gambe e anche gli occhi per questo indosso degli occhiali anche se in realtà non mi fanno vedere tanto bene ciò che sto cercando di dirti è che non posso essere intima con te se non mi mostro per quello che sono e c'è anche una parte emotiva in tutto questo la mia specie è una specie dominante e in natura anche sadica io ho imparato come trattenere queste emozioni ma non funziona proprio così durante la stagione dell'accoppiamento è un po' strano lo capisco e in realtà io posso accoppiarmi con qualsiasi ragazza io voglia ma c'è una spinta dentro di me che vorrebbe fare cose in modo più intenso rispetto a quello che sarebbe normale è come se ogni notte provassi a trattenermi per poter provare qualcosa di nuovo ma in realtà non è così perché ogni volta io quello che sto cercando di dirti è che io ti amo e volevo mostrarmi così da tanto tempo ma avevo paura ma adesso non mi importa più niente non mi importa assolutamente nulla io voglio sentirti voglio accarezzare quei capelli lunghi col mio corpo toccarti con le mie con le mie mani con tutte le mie zampe e guardarti con i miei occhi mi sento una cieca ogni volta a indossare questi stupidi occhiali vederti con tutti i miei occhi è così bello sei ancora più bella così ti ho portata qui perché volevo farti vedere il mio ambiente è così che è fatta a camera mia in realtà ed è anche il motivo per cui ti ho sempre chiesto di andare a casa tua perché casa mia non è proprio adatta agli umani è più adatta alle donne ragno come me essendo un arachnida ho bisogno di tanto spazio siamo molto ampie come puoi vedere e abbiamo bisogno di spazio anche per le ragnatele certo ragnatele come pensavi che ti avrei legata se no almeno in questo modo non ti fai del male non credi e poi essere ragnatele per noi è naturale quanto respirare per cui ci sono abituata e siamo abituati a farlo anche per le nostre amanti ed è anche il modo più sicuro per non farti cadere certo che siamo amanti no ci siamo dette tante volte che ci amiamo e siamo stati da un po' insieme stiamo da un po' insieme volevo dire e volevo mostrarmi a te per quello che sono io non voglio mentire una bella ragazza come te non mi non mi importa cioè non darò peso al fatto che tu sia spaventata è solo che non voglio che tu mi odi pensi di amarmi ancora nonostante questo vuoi che mi fidi di te ma certo che mi fido vuoi vedere tutto ne sei sicura va bene ecco dovrebbe illuminarmi abbastanza questa è la mia vera forma come puoi vedere dai fianchi in giù sono aracnide e ho sei occhi e ho un esoscheletro abbastanza scuro e otto zampe di cui solo sei sono similragnesche ah già e le mie mani sono abbastanza affilate così come le mie fauci perché sì io ho delle fauci che iniettano veleno che è combinata con la mia pelle che è in questo momento un po' scura mi rende un tipo di monstro fantastico da uccidere senti non c'è bisogno di mentirmi ok capisco che ti stia spaventando beh certo seguendo questa logica molti umani si spaventavano della mia forma umana perché ero la classica gotica ma pensi davvero che io sia bella che sexy no dai piantala così perderò il controllo tesoro già vederti tutta legata a una bella tentazione per cui sto cercando di trattenere le mie sei braccia dal prenderti ma posso avvicinarmi grazie vorrei solo sentirti più vicina che calduccio ti piace come tu con la tua pelle cerco di essere abbastanza delicata perché non vorrei tagliarti no non vorrei mai farlo l'ultima cosa che vorrei fare è farti del male e anche se ti fidi di me anche se non hai paura non voglio ferirti per sbaglio il mio corpo rimane quello di un mostro e anche se non mi comporto come tale beh è inutile negare no non importa quanto possa essere gentile rischierei di farti del male persino le mie fauci potrebbero iniettarti del veleno ucciderti oh no posso controllarmi in realtà posso anche usare un po' di veleno per darti piacere ma solo una quantità moderata ti piace? dalla ragnatela sento che il tuo battito cardiaco si sta tranquillizzando il che è buono significa che stai meglio sai in realtà dentro di me sapevo che mi avresti accettata per quello che sono ma forse forse in realtà speravo che non lo facessi non non mi sono mai fatta vedere in questo modo in questa forma da nessun essere umano però sai già lo imparai quando ero piccola che i miei artigli sono affilati come coltelli però posso fare questo sono ottimi devo dire per massaggiarti i capelli immagino che ogni cosa abbia uno scopo eh che cosa farò che che vuoi dire per ah dici per il per il periodo d'accoppiamento beh ti ho già legata oh no il tuo battito cardiaco sta accelerando no 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 non ti voglio mentire io so che hai paura di me so che sei tanto spaventata soprattutto l'idea di accoppiarci no non c'entrano nulla i bambini l'intimità e neanche lo stereotipo tu pensi che ti mangerò dopo non è vero tesoro non lo farei mai noi noi siamo molto più civilizzati di così anche in natura e persino nel passato quelle aracnidi che facevano così e se ne vantavano non venivano viste bene è vero siamo satiche di natura ma ma non ti tratterei mai così mai e anche se fosse la norma perché è illegale nel nostro mondo però anche se non lo fosse io non ti farei mai del male per me tu non sei un pasto io ti voglio come compagna di vita voglio stare con te per il resto della mia vita non hai idea di quante volte abbia fantasticato su come potevo usare le mie ragnatele per te per darti piacere e di come potevo toccarti con le mie zampe e baciarti e accarezzarti io ho bisogno di te tesoro è per questo che ti ho portata qui non potevo passare un altro un'altra stagione dell'accoppiamento da sola perché più mi isolavo più io ti desideravo e non c'era nulla che non potessi fare l'unica soluzione era avere te te come compagna della stagione lo so che posso essere descritta come come una pazzoide è un'illusa ma la scorsa stagione ho creato con le tele di ragno una figura che ti somigliasse per non sentirmi sola e ti sto dicendo tutto questo perché voglio che tu capisca hai già accettato le cose come stanno perché avere paura proprio di questo è solo un altro capitolo della nostra relazione per cui ti prego amore fidati di me grazie 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 sai posso anche aspettare ma il mio cuore si riempie di gioia adesso e voglio solo accarezzarti ok ti amo tanto tesoro grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti